Questo incontro rientra in una serie di appuntamenti, in una serie di eventi del bicentenario di Carlo Pisacane. Nasce in occasione di un altro convegno che sempre l'amministrazione comunale di Napoli ha voluto fare, grazie anche all'assessore Daniele, sempre stato sensibile per queste iniziative, e all'amico Mario Coppeto, un'iniziativa che promuovimmo il 27 aprile scorso, dove in quella circostanza eravamo nell'antisale Baroni Maschiangioino, presentammo una rivista che nasceva dalle intenzioni del Rettore Bonini e mie come direttore responsabile, una collana editoriale che in qualche modo affrontava temi legati al risorgimento, ma non solo alla storia, non solo alla storia delle dottrine e delle istituzioni politiche. In quell'occasione sia Casavola che Raffaele Cantone tennero una lexio magistralis su due argomenti distinti. In quella circostanza venne presentato il libro, il mio libro, che tra l'altro lo dico perché l'amministrazione mi è stata vicina, ho ricevuto un premio per l'editoria, l'ha avuto il mio editore. Libro che grazie all'amministrazione comunale presentammo in quella circostanza lì, nacque l'idea di rievocare, di ricordare il bicentenario di Carlo Pisacane. Nessuno l'aveva fatto, eravamo già ad aprile, sembrava difficile riuscire a realizzare questa cosa e quindi ci attivammo, fui invitato poi a Sapri, il giorno successivo ero a Sapri ed ero con il collega, con l'amico Conte e con l'amico Pinto, parlammo di questa possibilità. Da lì nacque l'idea di costituire questo comitato che poi è nato, ha chiesto riconoscimenti al Comitato Tecnico Scientifico per l'Università dell'Interesse Nazionale e grazie alla disponibilità, lo devo dire, lo dico pubblicamente anche del Rettore della mia Università perché tengo a ribadire, l'Università Partenope è stata molto attiva nel programmare, nel evidenziare, nel promuovere e grazie alla sensibilità anche del Direttore di Dipartimento, il Professore Esposito che oggi è presente e sarà qui anche in indizio di saluto, abbiamo poi calendarizzato. Quindi c'è stato un evento importante, significativo a Sapri, poi siamo stati a Palermo e ora a Napoli col Sindaco che noi stimiamo, io personalmente lo dico, stimo tanto e che in qualche modo si è mostrato vicino a questi temi, come ha fatto Mario Coppetro che saluto e come ha fatto l'ottimo Assessore Daniele che mi ha coinvolto anche in un'altra iniziativa promossa da voi perché avete organizzato un calendario molto bello di iniziativa. Detto questo è la ragione che in qualche modo ispira l'incontro di oggi, una particolare sensibilità ovviamente va, mi consentite, anche alla Scuola Militaria Annunziatella che in qualche modo è sempre presente su questi temi, al Presidente Catenacci che ricordo da una vita quando iniziavo i miei studi universitari e poi ovviamente a chi rappresenta egregiamente la Scuola Militaria Annunziatella. Detto questo mi sono già soffermato troppo, passo la parola al Sindaco De Magistris. Innanzitutto siamo contenti di partecipare anche in termini organizzativi a questo evento così importante per Carlo Pisacane, per il bicentenario dalla nascita e consentitemelo dire in un luogo così prestigioso che è il complesso di San Domenico Maggiore che da alcuni anni è stato restituito alla fruizione collettiva e qui da qualche tempo abbiamo anche rappresentato con il teatro la storia della rivoluzione partenopea, la rivoluzione napoletana del 1799 con una rappresentazione nel ricordo di Eleonora Pimentel Fonseca. Poi mi fa piacere ovviamente anche che ci sono tanti studenti e do anche il benvenuto, ho saputo che ci sono ragazzi che non sono della città di Napoli, vengono da Sapri, forse anche da altre parti del nostro mezzogiorno perché è importante effettivamente trovare il piacere oltre che il dovere di ricostruire e conosce la storia del nostro mezzogiorno. Sono molto contento che uno degli argomenti che sarà trattato oltre Pisacane è la rivoluzione napoletana nel 1799. Io ho sempre ritenuto che Napoli in qualche modo e anche il mezzogiorno abbiano visto sempre lontano e abbiano anche anticipato tante istanze di libertà, l'insofferenza alle ingiustizie, lo spirito rivoluzionario come quello di Pisacane, lo è stato nel suo modo masaniello nel 600, poi la rivoluzione partenopea nel periodo dell'illuminismo, addirittura siamo stati in questo luogo, si è formata la libera stampa col monitore, le connessioni con la rivoluzione francese, l'ansia di libertà, poi repressa col sangue e poi la stagione dei moti risorgimentali e rivoluzionari, del pensiero socialista libertario, del pensiero anche anarchico che ha avuto nella nostra città, ci sono anche dei collegamenti importanti tra Pisacane e quel pensiero, il materialismo storico e anche la voglia attraverso l'insurrezione di liberarsi. Io mi vorrei soffermare nel mio breve saluto su questo che poi ha caratterizzato anche il fatto che non a caso noi siamo stati la prima città d'Europa a liberarsi da solo dall'oppressione nazifascista dal 27 settembre al 30 settembre del 1943 con le quattro giornate di Napoli e devo dire che la nostra amministrazione che ricorda tutte le ricorrenze, compreso quella importantissima del 25 aprile 1945 della liberazione, però devo dire che in questi sette anni abbiamo voluto ricordare molto le quattro giornate, perché le quattro giornate arrivano un anno e mezzo prima della cosiddetta liberazione degli americani, gli americani aiutano il popolo napoletano quando il popolo napoletano ha già vinto, in termini calcistici è come se l'alleato fosse arrivato a sostenerci quando già vincevamo 3 a 0. Quindi questo lo voglio dire perché evidentemente a Napoli nel mezzogiorno i valori di libertà, uguaglianza, giustizia e fratellanza sono profondamente sentiti e quindi lo spirito rivoluzionario ha caratterizzato anche in modo eroico con l'insurrezione, la storia di Pisacane lo insegna, di poche persone che hanno evidentemente quella passione civica, quel sentimento rivoluzionario, quell'ansia di libertà di mettere in gioco la propria vita per la liberazione dei nostri territori. Ecco io penso che il sud e la questione meridionale passa soprattutto attraverso l'autodeterminazione del proprio popolo, non ci sarà mai nessuno che ci verrà a risolvere i problemi dall'alto, non ci sarà mai nessuno che ci verrà a salvare, saremo noi che ogni volta a seconda dei momenti storici ci dovremmo conquistare i diritti che ci spettano e io da napoletano e da meridionale, oltre da italiano e da europeo, sono profondamente orgoglioso della storia dei nostri rivoluzionari. Certe volte ci soffermiamo a lungo sui babilonesi, ci soffermiamo a lungo sull'epoca del mesozoico, poi magari non ci soffermiamo adeguatamente su quello che è stata le quattro giornate di Napoli, la rivoluzione partenopea, Carlo Pisacane, il 1800 che invece rappresenta la forza della nostra storia. Quindi il mio è solo un indirizzo di saluto, però concludo anche nel sottolineare l'apprezzamento di come in questi anni difficili, difficili soprattutto economicamente, ma non solo, questa città proprio attraverso la cultura e come vedo una sinergia anche molto diffusa tra persone, istituzioni, ognuno con la propria identità, ognuno con la propria filosofia etica e culturale stiamo provando a riscattare la nostra terra e quindi sono davvero contento di avervi dato il benvenuto e vi auguro una giornata di riflessione, di lavoro comune per un impegno civico che possa trovare anche nella storia risorgimentale la sua linfa democratica. Sono orgoglioso di essere qui, sono orgoglioso che il Dipartimento di giurisprudenza dell'Università Partenope abbia partecipato e abbia dato un contributo, l'organizzatore dice notevole, io penso sempre troppo poco per il valore e il senso di questa giornata. Ho apprezzato le parole del Sindaco perché sono un monito in cui credo ad un modo nuovo di diffondere il sapere nelle nostre istituzioni culturali che parta profondamente dal senso della nostra identità di paese, di regione, di territorio che ha fatto la storia d'Italia, che ha contribuito con il fiore degli intellettuali di quel tempo alle basi stesse teoriche di quella che poi sarà la costruzione democratica e repubblicana anche del nostro paese e quindi secondo me quell'invito ad una storia contemporanea che consenta a voi ragazzi ma anche a noi di raccogliere l'appartenenza a questa grandissima importantissima tradizione meridionale e penso che non bastino giornate e l'impegno non basti, per questo penso che il nostro apporto sia minimale. E' certo che noi cerchiamo di coltivarlo quotidianamente nella nostra azione di formazione ma non solo, non solo docenza, non solo didattica ma anche ricerca, Leone Melillo è uno studioso attento e profondo di queste tematiche. Dobbiamo apprendere da questa storia che il progresso avviene attraverso un incrocio di conoscenze e di saperi. Tutti i grandi intellettuali della tradizione illuministica napoletana hanno questa caratteristica e non solo, tutti gli intellettuali meridionali che hanno profondamente contribuito alla storia del nostro paese si caratterizzano per essere in possesso di più saperi, diritto, economia, sociologia, storia e letteratura. Eleonora Pimentel Fonseca era una straordinaria letterata prima ancora che un intellettuale e una donna di politica sensibile. Possiamo apprendere da questa esperienza dunque che ci impossessiamo della nostra vita e della nostra storia attraverso una profonda consapevolezza di quanto il sapere e le esperienze politiche debbano fra di loro intrecciarsi. Senza questa contaminazione, senza questa apertura mentale non avremo progresso, non avremo una vera crescita né economica né politica né in termini di riconoscimento di diritti fondamentali. Questa è la nostra storia e abbiamo molto da apprendere da essa. Vi ringrazio. Io spero che veramente vi incontriate con questo straordinario personaggio che è Pisacane. Allora ai più giovani vorrei dire, perché penso che questo è un argomento per loro particolarmente interessante, quello che immagino occupi gran parte attualmente del loro tempo, dei loro pensieri e del loro animo, che è l'amore. Perché Pisacane non fu esule all'inizio per ragioni politiche, fu esule per amore, cioè ebbe la passione per questa donna che era già sposata, aveva già tra l'altro dei figli. Alla fine, dopo lustri di amore platonico, decisero di vivere insieme alla loro vita e andarono in esilio a Londra e lì Pisacane incontrò gli esuli che appunto lavoravano per... incontrò tra l'altro grandi personalità del pensiero allora socialista, libertario, insomma. Lì cominciò a costruire insieme alla sua formazione di militare, di ufficiale, quindi di esperto di organizzazione militare. Una cosa che ritornerà, una gran parte dei suoi saggi sono riflessioni sull'aspetto militare, diciamo, della vicenda risorgimentale. Però, ripeto, tutto comincia, diciamo, dalla sua grande storia d'amore e questo legame tra queste due. Tra l'altro poi lui, la sua vita, come sapete, si spense giovanissimo, quindi è una vita molto intensa, breve ma intensissima. Io credo che non sia un caso, diciamo, anche qui nel vedere la complessità dello sviluppo di una personalità così importante come me, io non credo che sia un caso. Perché io ho sempre considerato, e concludo, ho fatto troppo lungo, diciamo, che l'amore è il fondamento della libertà. Voi pensate che qualcuno si possa innamorare a comando? Non è che mi posso innamorare di una persona, se qualcuno mi obbliga. Cioè l'amore ha in sé questa dimensione dell'imprevedibilità. E pensate che questo ovviamente mette in discussione tante sovrastrutture, diciamo, e quindi ti obbliga a riflettere sulla società. Perché altrimenti sarebbe, no, ci sarebbero solo i matrimoni per censo, solo i matrimoni per ragioni di Stato. Oppure addirittura mette in discussione le appartenenze culturali rigide. Ci si sposa tra persone, ci si innamora tra persone di culture completamente diverse. Quindi questo impedisce l'ossi... Non consente barriere. Non consente barriere. I fondamentalismi, contro i fondamentalismi religiosi. Pensate alla vicenda di quella povera ragazza pakistana, diciamo così. Quindi è partendo sempre da lì, da questo sentimento che si prova a ricostruire una dimensione di libertà. E poi l'altro grande sentimento di pisacane era il sentimento di giustizia. Ecco, questo io considero veramente l'altro fuoco. E ora che avremmo bisogno veramente di un nuovo risorgimento, forse se ripartiamo dallo studio e dalla conoscenza di questi uomini e di queste donne meravigliose possiamo svegliare e riaccendere un fuoco anche nelle nuove generazioni del nostro paese. Non devo aggiungere nulla sulla persona di pisacane sicuramente. E noi ovviamente siamo onorati come associazione di averlo tra gli ex allievi illustri che hanno dato prestigio alla scuola e non trascuriamo occasione per conferire a questa circostanza tutta l'attenzione possibile. Presso la scuola militare Nunziatella nel 2003 c'è stato un convegno sulla religiosità e rivoluzione nell'Italia nel mezzogiorno post-unitario che ha visto appunto protagonista la figura di pisacane. Ancora nel 2007 nel centocinquantesimo anniversario della tragica scomparsa c'è stato un altro convegno 150 anni dopo per ricordare la figura di pisacane e all'epoca il professore Russi, uno dei più apprezzati studiosi di pisacane, infervorò la platea anche degli allievi avendo una serie di domande da parte degli stessi che fece andare la riunione oltre i tempi diciamo dovuti e abbiamo promosso delle borse di studio cioè abbiamo fatto tutto quanto necessario per ricordare e noi siamo orgogliosi come istituzione Nunziatella perché in qualche modo è un'istituzione di testimoniare questa... di testimoniare... peraltro se si vede il passato di pisacane lui diventa alfiere del genio quindi ha lavorato a tantissime cose al corso Vittorio Emanuele all'epoca Maria Teresa a Civitella del Tronto dove abbiamo occasione anche di ricordarlo peraltro rimase... e devo dire che tutto questo diciamo noi siamo onorati di avere questo ruolo di testimoni... devo dire che quando si parla di quando si parla di sofferenza quando si parla di soppressione dei diritti quando si parla di ribellione quando si parla dello stomaco che scoppia perché ci si sente di impazzire di fronte alle ingiustizie non può non parlarsi di avvocati non a caso Gandhi era un avvocato non a caso Martin Luther King era un avvocato non a caso il premio Nobel per la pace di qualche anno fa e Sid Abdelaziz è un avvocato non a caso in molti paesi islamici o dove c'è la dittatura dove è soppressa ogni libertà di pensiero e anche di azione i primi a essere colpiti sono gli avvocati e giornalisti e non è un caso che i primi a insorgere siano sempre gli avvocati vedete questo lo dica ragazzi c'è un episodio che si racconta di Saddam Hussein un dittatore dell'Iraq di qualche tempo fa il quale diceva abolì semplicemente gli avvocati dicendo insomma gli imputati sono difesi da là e la voce dell'avvocatura è giusto che sia che sia ascoltata qui in questo contesto perché rappresenta valori che poi sono condivisi assolutamente da tutte le istituzioni dalle forze sane della città del paese e allora e allora io dico e mi rivolgo soprattutto a loro vedete ragazzi essere portatori sani di uguaglianza di libertà non è non è legato al nostro lavoro in realtà è legata alla nostra formazione al fatto di stare a sentire a quel moto interno che ci fa soffrire se un altro soffre e ci porta a intervenire allora partendo da Pisacane io vi auguro di seguire il suo esempio in tutto anche a costo di sacrificare se stessi tranne che in amore nel senso che vi auguro di non aspettare lustri con un amore platonico e soprattutto di non trasferirvi a Londra perché Napoli ha veramente bisogno di voi per me ovviamente è difficile parlare dopo i miei lustri predecessori però consentitemi solo di un piccolo indirizzo di saluto nel quale in qualità di capo ufficio didattico della scuola militare volevo rimarcare il filo conduttore che c'è fra i valori che da sempre dalla costituzione settecentesca della scuola fino ad oggi hanno animato la nostra scuola ed è quel tempio dove si è formata la figura di Pisacane alcuni temi cruciali come la libertà il valore della conoscenza il senso dello stato e la difesa della patria sono sono fattori fondamentali e pergnanti della formazione dell'allievo militare della scuola militare sia dalla sua costituzione ad oggi e questo lo testimonia anche il forte legame che c'è fra la scuola militare Nunziatella come istituzione e tutta la sua componente ex allievi vedete non è solo l'illuministica idea di guaglianza e di fraternità che ha ispirato l'agire e il pensiero politico di Pisacane ma anche vorrei dire la questione umanistica di un diritto universale al di sopra degli uomini basato su quei principi universali che sono oggi quei principi fondanti della nostra democrazia diciamo che Pisacane forse è stato un precursore anche del concetto moderno di difesa della patria e di difesa di quei principi universali che abbiamo detto appunto sono la base costituente delle democrazie moderne e che hanno superato invece il concetto di guerra espansionistica e di oppressione dei diritti dei popoli. Vi ringrazio e vi rinnovo i saluti del comandante della scuola militare Nunziatella. Qual è l'elemento in più che io vorrei suggerire ma ovviamente ne faccio una riflessione mia da offrire alla discussione la follia la follia intesa come come dire motore di visionare il futuro di guardare oltre. La follia è quello di voler immaginare un mondo che assomigliasse sempre di più. Proviamo ad immaginare cosa sono le cartine geografiche quando si entra entriamo nelle scuole. Ce n'è una monocolore oppure con i colori naturali, le sfumature tra i marroni e i grigi che sono le montagne piuttosto che l'orografia dei luoghi, la famosa carta geografica fisica. Poi c'è quella multicolore che è la carta geografica politica che varia da sempre e probabilmente varierà ancora che è fatta di interessi, di poteri, di economie, di conflitti. Ecco, credo che la follia di Carlo Pisacane volesse in qualche modo in quel contesto politico modificare quel multicolore di allora che era di un paese frazionato. E io credo che oggi noi ci troviamo di fronte a un dato del genere che io vorrei raccogliere come motore che mi fa vivere in questo bicentenario Pisacane come una utilità del ragionamento di oggi. Ovvero quello di lavorare ancora una volta magari con gli strumenti della democrazia, con gli strumenti della persuasione, con gli strumenti del dibattito politico, con gli strumenti di una visione democratica per provare a rendere universalmente e unicamente colorato, pur nel mantenimento delle diversità culturali, sociali, politiche, religiose, etniche, un'Europa dei popoli, un'Europa che non sia soltanto l'espressione di un processo economico, finanziario e bancario come lo è oggi, ma un'Europa democratica capace di stare al pari con gli altri grandi potentati politici, economici e sociali come lo sono da un lato l'Unione Sovietica, scusatemi, la Russia, la Cina e gli Stati Uniti d'America. Ecco, io credo che noi oggi abbiamo un rischio di arretratezza con l'affermarsi di sovranismi ed è un passo indietro, non è un passo in avanti, non ne voglio fare soltanto una questione di giudizio politico per affermare la mia provenienza. D'altra parte, se Leone Melillo intende anche invitarmi in quanto capogruppo di un raggruppamento politico a questo convegno, anche per provare a mettere al centro del dibattito, non soltanto, ricordo che scientificamente per il lavoro che fate nell'Accademia oggi qui dimostrate, però io credo che vada utilizzata, credo che noi dovremmo fare questo sforzo nel ricordo e nel richiamo di Carlo Pisagane per immaginare un mondo, un'Europa per quello che riguarda il mio intervento sempre più coesa e che sia appunto fatta di rappresentanza e di rispetto pur nelle diversità dei popoli. Leonardo Di Mauro ha preparato un contributo a questo convegno sul tema appunto dell'iconografia e dell'iconologia, in quanto, come è ben noto, ha avuto sempre un ruolo fondamentale negli studi di storia dell'arte, che sono stati indispensabili perché senza una corretta lettura dei soggetti e dei temi raffigurati è impossibile una serie a letture delle opere studiate. La sola analisi di stilistica apparrebbe riduttiva, infatti attraverso appunto la storia, ripercorrendo la storia di Carlo Pisagane, noi possiamo avere un taglio diverso su quello che è stata l'evoluzione dei nostri territori, della nostra città. Accanto appunto alla raffigurazione della figura umana nel racconto mitologico, in quello biblico ed evangelico, che tanta parte hanno nella cultura dell'Occidente, un ruolo non minore, hanno appunto la raffigurazione e descrizione, anche letteraria, delle città e dei territori in cui gli uomini vivono e hanno vissuto. Soprattutto a partire dai grandi atlanti cinquesenteschi con le rappresentazioni piante e vedute nella città, passando per la spettacolare stagione del vedutismo, che iniziata in ambiente olandese, e si pensa a Vermeer, a Van Vittel, ha raggiunto in Italia con canaletto, bellotto, vertici altissimi. Quindi la raffigurazione del paesaggio urbano e non hanno assunto un'importanza fondamentale nel creare l'identità di un luogo, di un paese e di una nazione. Non per niente la nostra Costituzione moderna e bellissima, l'articolo 9, afferma che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Secoli di descrizioni scritte e dipinti da italiani come Dante, Manzoni e Calvino, da Ambrogio, Lorenzetti e a Boccioni, ma anche da stranieri come Goet e come Raskini, fino a grandi pittori impressionisti e accanto ai grandi fotografi e grandi registi hanno contribuito a creare appunto il nostro immaginario. immaginario ci ha accompagnato appunto nella crescita personale e diciamo di cambiamento non solo della cultura, dello stile, del modo di vivere, ma anche appunto di come si sono evoluti i nostri quartieri e le nostre città fino a arrivare ai giorni nostri. Infatti oggi, davanti alla trasformazione devastante del territorio e della forma consolidata appunto delle nostre città, diventa sempre più inarrestabile la conoscenza dell'iconografia storica e della cartografia appare come uno strumento indispensabile per evitare appunto la perdita dell'identità. Il compito primario di una struttura culturale proposta alla tutela di ogni amministrazione comunale dovrebbe quindi essere la raccolta, la catalogazione, lo studio di tutti i prodotti iconografici che permettono la migliore conoscenza della storia che ha caratterizzato un luogo e domani potrebbero contribuire a un accurato restauro che deve essere auspicabile anche per l'ambiente così è come è stato fatto per le opere dell'arte e dell'architettura per cui è importante per questo, importantissimo per questo, fermarci in un momento in cui il mondo segue le app, segue Facebook, segue tanti strumenti che velocizzano la nostra vita è importantissimo avere invece un momento di riflessione così alto come la celebrazione del bicentenario di una figura così importante per la storia di Napoli come parlo Carlo Pisacane per poter appunto fermarci, riflettere e farne tesoro per avere un futuro migliore, grazie L'attualità di un pensiero, quello di Carlo Pisacane, proprio in questo momento è per noi motivoce di soddisfazione nel corso delle celebrazioni per il bicentenario l'attualità anche rispetto ad una quadratura costituzionale se vogliamo che negli ultimi tempi vediamo un tantino vacillare rispetto ad una serie di livelli quello europeo che si citava giustamente quello nazionale, quello regionale quello comunale si parte da un dato che è quello del Pisacane è stato riferito anche egregiamente poco fa di una riorganizzazione militare che ha avuto delle sfaccettature diverse ma paradossalmente noi da quel dato partiamo da quel dato abbiamo l'obbligo morale di partire e di analizzare quella che è una prospettiva oggi di questa quadratura mi piace ricordare questa figura di rivoluzionario sociale questa impronta sociale molto forte che per noi è molto significativa e la consegniamo alla riflessione e allo studio dei giovani i concetti principali di Pisacane e la valutazione del Pisacane tra unitario o federalista altro tema, professore centrale, importante su cui già da un anno ci stiamo lavorando e mi auguro anche nell'esperienza istituzionale di raccogliere quante più riflessioni possibili per portarle poi in un certo modo per valorizzarle nella produzione legislativa, nella normazione che talvolta è schizofrenica, è mediatica, è orientata per me è molto significativo avere come base queste riflessioni questi principi universali rappresentati dal Pisacane nella interlocuzione che stiamo portando avanti io mi auguro e ti ho sempre chiesto la raccolta e gli spunti per continuare a divulgarli so che raccogli anche attraverso una rivista queste notazioni mi auguro ancora di proseguireci in questa interlocuzione per condividere ancora al meglio queste giornate, grazie Pisacane che era un uomo d'armi che si era formato all'Annunziatella da questa sua esperienza che è un'esperienza d'amore una bella storia, lui conosceva già Enrichetta, la sua compagna che poi fu data in sposa al suo cugino che era un vecchio danaroso dalla famiglia ma in realtà si amava già con Carlo che era un nobile Carlo Pisacane di San Giovanni con il fratello pure vi è stato detto Filippo che rimarrà per tutta la vita filo borbonico bene, Pisacane sto finendo eh no, figurati Pisacane da questo esilio che come vi è stato detto dall'assessore Daniele nasce in realtà per ragioni da una fuga d'amore lui si mette con la sua amata già incinta di lui che aveva già tre figli da suo cugino e che poi sarà anch'essa una patriota mazziniana vanno a Londra vanno a Losanna a Parigi e qui Pisacane viene in contatto con i classici anzi non sono ancora classici con il vivente nel senso che quelle persone già vivevano ancora vivevano pensiero socialista eh Marx più tardi Bakunin e quindi si nutre del anche di queste suggestioni e c'è nella nostra Costituzione anche un'eredità che risale al filone socialista così come c'è il tema del federalismo che come vi è stato pure detto ehm Pisacane coltiva in chiave municipalista comuni 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 comunalismo ha detto ci ha detto il professore Melillo e in realtà la particolarità della no delle nostre autonomie territoriali è di essere differentemente da altre esperienze costituzionali giocata su riconoscimento costituzionale di tre livelli comuni una volta province che comuni province regioni e stato quindi attualità ma molto tempo dopo di un pensiero che allora morì ma che era acerbo come disse e ho finito Meuccio Ruini che era il presidente dell'assemblea dei 75 all'assemblea costituente del comitato che tra i membri della costituente poi in realtà scrisse la costituzione non ci sarebbe stata questa costituzione se non ci fosse stata prima la costituzione mazziniana nella costituzione della repubblica romana quella della rivoluzione mazziniana del 49 quella di Carlo Pisacane e quindi del pensiero socialista che allora nasceva e di cui lui si rese interpreti sono tanti filoni assieme per esempio al filone cattolico ed altri che sono confluiti nella costituzione che è la nostra una costituzione di popolo attenzione la sovranità appartiene al popolo che l'esercita dice l'articolo 1 nelle forme e nei limiti previsti dalla costituzione è una costituzione popolare ma non è la nostra una costituzione populista bisogna dire che la storia dell'ultimo cinquantennio la storia culturale dell'ultimo cinquantennio direi è una storia di lenta e faticosa immersione di un forte interesse per la storia dell'istituzione e forse anche per noi meridionali la storia di un recupero la storia di un recupero noi abbiamo un precedente significativo del settecento di storia delle istituzioni Pietro Giannone l'istoria civile di Pietro Giannone la storia di Pietro Giannone è un grande esempio di storia delle istituzioni nella prefazione Giannone dice che bisogna superare la vecchia storiografia che assordava i lettori con lo strepito delle armi e col rumore delle battaglie cioè quella che noi oggi chiamiamo storiografia evenemenziale bisognava studiare la dialettica delle istituzioni e la dialettica delle forze sociali operanti delle istituzioni e quindi innanzitutto bisognava fare la storia di quel ceto giuridico di quelle magistrature che costituirono nell'antico regime e non solo dell'antico regime l'ossatura costituzionale dello stato meridionale soprattutto negli ultimi decenni era invalsa l'abitudine come diciamo con espressione popolare di buttare la croce addosso all'idealismo certo l'idealismo l'egemonia dell'idealismo ha dato un contributo non irrilevante a oscurare questa centralità per la storia delle istituzioni bisogna dirlo se esaminiamo la storia di croce certamente croce ebbe un merito importante quello di aver superato un approccio meramente retorico alla vicenda risorgimentale per cui l'esigenza di superare una rappresentazione dell'antico regime come una vicenda tutta negativa dati i rapporti internazionali la penisola italiana non poteva che far parte di equilibri più complessivi che attenevano allo scacchiere europeo tuttavia se si legge la storia del regno di Napoli si vede che nella storia del regno di Napoli l'attenzione per la vicenda delle magistrature per la vicenda del ceto giuridico è un'attenzione molto marginale bisogna dire che la grande storiografia delle istituzioni è stata una storiografia fiorita non in Italia a cavallo fra 800 e 900 penso a Mounier grande storico francese Mounier ci ha insegnato a guardare con attenzione alla storia delle magistrature il consiglio del re la dialettica fra consiglio del re e parlamenti penso a un grande storico austriaco Otto Brunner terra e potere la costituzione non nasce dall'alto la costituzione nasce dai rapporti di forza dai rapporti di potere che si radicano nelle pieghe più minute della società poi comincia anche in Italia negli anni 50 e da parte di un allievo di croce però che guardava oltre il pensiero del suo maestro Federico Chabot un'attenzione per le dinamiche concrete effettive delle istituzioni salario nominale busta paga effettiva dei magistrati ci sembra un tema marginale di poco conto in fondo dettaglio storico invece un tema centrale la retribuzione dei magistrati come dei magistrati d'antico regime come cartina di tornasole dell'egemonia ministeriale il magistrato rivendica l'integrazione della propria retribuzione sulla base e qui c'è l'intreccio su cui si poneva l'accento appunto nel titolo della seconda sessione del convinto fra storia delle istituzioni e storia delle dottrine politiche Federico Chabot faceva storia delle istituzioni ma faceva anche storia delle dottrine politiche perché leggeva la giustificazione di questi meccanismi attraverso l'esame delle dottrine tardoscolastiche della seconda scolastica Molina in particolare la storiografia giuridica italiana io sono uno storico del diritto certamente ha conosciuto nei decenni scorsi studiosi prestigiosissimi però devo dire anche l'indirizzo prevalso a partire dagli anni trenta del novecento ad opera di Francesco Calasso non ha contribuito a un dialogo fra storia politica la storia del diritto la visione di Calasso era un uomo di straordinarie risorse intellettuali uno scrittore raffinatissimo però nella storiografia di Calasso c'era l'influenza dell'idealismo e l'influenza del positivismo la sua rappresentazione del sistema del diritto comune come un sistema legislativo era espressione è stato detto da grossi come espressione di uno statualismo psicologico fondamentalmente quindi questo comportava anche una scarsa attenzione per la ideologia giuridica io parlo qualcuno potrebbe obiettare che senso ha parlare di ideologia giuridica al singolare ha senso perché ideologia giuridica significa insieme delle razionalizzazioni teoriche attraverso cui i giuristi i giuristi d'antico regime giustificavano il proprio potere di cui l'attenzione prevalente rivolta alla dottrina giuridica e la svalutazione del fenomeno della giurisprudenza dei grandi tribunali che invece è stato un fenomeno centrale nella vicenda storica non soltanto del mezzogiorno le cose cominciano a cambiare in maniera radicale a partire dagli anni 60 c'è il contributo di Aiello c'è la riflessione di un non storico del diritto di un comparatista Gino Gorla la riflessione di un grande comparatista la giurisprudenza dei grandi tribunali chi l'ha detto che i tribunali abbiano contato soltanto nell'esperienza di Common Law e non abbiano svolto invece un ruolo centrale i magistrati arrivavano a teorizzare la vis legis del precedente giudiziario e quindi questi contributi poi contributi anche della storiografia politica Diaz questo grande libro Filosofia e politica del settecento francese Alatri i parlamenti francesi i parlamenti francesi non erano degli organismi rappresentativi erano dei grandi tribunali e si scontravano sovente con la corte con il potere centrale noi pensiamo alla questa visione devo dire c'è stata anche trasmessa almeno quando ho studiato io nelle scuole elementari medie c'è stata trasmessa una visione piramidale dell'assolutismo invece anche la Francia che pure è considerata in qualche modo l'ideal tipo dell'assolutismo europeo conosceva una dialettica vivace fra parlamenti e corte erano frequentissime queste contrapposizioni a un certo punto i parlamenti francesi cominciano a declinarsi al singolare cominciano a parlare di parlamento non più di parlamenti perché pensano si autorappresentano come un unico organismo rappresentativo quindi oggi abbiamo un panorama storiografico che è certamente un panorama più ricco e questa consapevolezza del ruolo delle magistrature della componente giuridica si aiuta anche a ricostruire gli antecedenti della rivoluzione del 99 la vicenda del 700 è una vicenda complessa perché nella rivoluzione del 99 si manifestano anche gli esiti del crollo del declino di quel costituzionalismo ministeriale cioè imperniato sul ruolo politico delle magistrature che aveva rappresentato in qualche modo l'ossatura dello stato meridionale in misura persino maggiore rispetto ad altri stati dell'antico regime il collaterale che era il vertice del ministero togato delle magistrature era anche il principale organo politico a Napoli il 700 soprattutto il periodo del regno indipendente dopo il 1734 conosce una prima intensa stagione riformatrice il decennio che va fino alla metà degli anni 40 si ridimensiona il ruolo delle giurisdizioni feudali si crea il supremo magistrato del commercio c'è un organismo che aveva delle competenze diverse rispetto alle magistrature tradizionali poi c'è una fase quella tanucciana che è una fase caratterizzata da minori slanci riformatori Tanucci che da giovane era considerato un giurista molto estroso polemico nei confronti della tradizione di fronte anche alle difficoltà che gli squadernava quotidianamente la prassi di governo rifluisce supposizioni più oggi diremmo moderate e quindi c'è un periodo di in qualche modo anche di onesta amministrazione di amministrazione seria punteggiata da volte anche da provvedimenti significativi l'espulsione dei gesuiti l'introduzione del 74 della motivazione delle sentenze e quindi è una fase nella quale fondamentalmente il tessuto connettivo dello stato meridionale pur fra mille difficoltà sta in piedi il quadro comincia a peggiorare e peggiora all'indomani della caduta di Danucci 76 1776 si impone il dispotismo della casa regnante Ferdinando IV e Maria Carolina è emblematica da questo punto di vista la diversa posizione nel corso del tempo di Gaetano Filangieri quando nel 1774 vengono emanati dispacci che prevedono la motivazione delle sentenze Gaetano Filangieri giovanissimo non si può dire giovane perché lui morì a 35 anni quindi è tutta giovanile la produzione di Filangieri saluta con estremo favore questo provvedimento finalmente è stato cancellato l'arbitro delle magistrature è stata cancellata eliminata la possibilità di rifarsi all'equitas come paravento dell'arbitrio ma già nella scienza della legislazione quindi quando già cominciava ad emergere con chiarezza i costi il prezzo che l'eclissi del costituzionalismo ministeriale comportava cambia posizione e rivaluta fortemente il ruolo delle magistrature quindi è una vicenda quella della rivoluzione del 99 che dobbiamo certamente che dobbiamo anche collocare su questo su questo sfondo il problema della giudizio sul risorgimento è una questione immensa cioè oggi però va sottolineato oggi un cambiamento anche a riguardo di prospettiva che ha caratterizzato io direi gli ultimi due tre decenni nel dopoguerra il dibattito sul risorgimento è stato appassionato generazioni di storici e anche diviso generazioni di storici l'interpretazione liberale di Cavour era diversa dall'interpretazione diciamo democratica di Salvatorelli come era diversa dalla interpretazione marxista tutti sanno il giudizio critico di Antonio Gramsci espresso nei quaderni del carcere sulla modalità con cui era avvenuta il processo risorgimentale la mancata riforma agraria quindi il processo risorgimentale che non aveva compiuto quella profonda trasformazione che si era invece verificata in Francia e che era stata promossa dai giacobini in Francia quindi ci sarebbe da dire insomma ci sono gli orientamenti della storiografia revisionista che poi ha modificato profondamente il quadro oggi i contemporaneistici ci offrono un quadro più variegato degli stati degli stati italiani preunitari in realtà il disegno reazionario di cancellare del tutto le realizzazioni della rivoluzione francese del decennio fu realizzato in alcuni contesti inizialmente ad esempio in Piemonte furono restaurate le costruzioni piemontesi ma non nel mezzogiorno le due conquiste fondamentali della rivoluzione la codificazione e l'amministrazione la nascita di un'amministrazione distinta dalla giurisdizione furono tenute ferme il che non questa consapevolezza che quindi non va dipindo integralmente a tinte fosche il quadro degli stati preunitari non cancella affatto il ruolo che svolsero uomini come Pisacani anzi il merito di uomini come Pisacani è quella di aver combattuto con e di aver dovuto avere a che fare con un quadro istituzionale che non era un quadro politico istituzionale in dissoluzione quindi il nostro quindi la la nuova consapevolezza storiografica che ha cresciuto negli ultimi decenni esalta se possibile la nostra profonda riconoscenza verso uomini che sono parte decisiva della nostra odierna cultura democratica mi presento io sono un discendente della famiglia Pisacane il rapporto di Carlo con la città di Napoli Carlo è nato il 22 nacque cioè il 22 agosto del 1818 all'infrascata 46 all'età di 12 anni fu ammesso alla prima scuola militare di Napoli che aveva che era distanza al convento di San Giovanni a Carbonara e poi raggiunse la Nunziatella all'età di 14 anni dove già studiava il suo fratello maggiore Filippo lui si è formato alla Nunziatella con personaggi importantissimi citerei uno su tutti Mariano Daiala il suo professore di balistica un uomo di una cultura veramente sconfinata di una umanità importantissima che fu per Carlo un faro di intelligenza di cultura di tecnica militare eccetera egli ufficiale del genio cosa significava essere all'epoca ufficiale del genio in breve un ingegnere civile perché di fatto tutte le infrastrutture erano affidate al genio militare infatti Carlo ha lavorato alla costruzione della ferrovia che portava da Napoli a Caserta ha lavorato alla costruzione della carrozzabile Maria Teresa oggi Corso Vittorio Varuele e quindi ha lasciato il segno della sua operosità come ingegnere qui a Napoli la fuga da Napoli per motivi sentimentali avviene dopo un agguato che Carlo subisce nella notte fra il 12 e il 13 ottobre del 1846 mentre lui si ritirava a casa percorreva via San Gregorio Armeno all'altezza dell'ingroscio con via dei tribunali più o meno all'altezza della basilica di San Lorenzo Maggiore subì un agguato con ferite gravissime che misero a repentaglio la sua vita questo agguato che ovviamente portava chiara l'impronta per la sua ovviamente vicenda amorosa con Enrichetta che era comunque rimasta nella sfera di un amolo e platonico portò alla ribellione di Carlo che già non era come dire era diciamo intollerante a una società ipocrita e bigotta che all'epoca la faceva era diciamo abbastanza diffusa nella aristocrazia e borghesia di Napoli questa fuga lo portò è stato ben ripetuto a conoscere ambienti diversi da Napoli in particolare quello di Parigi per tutto l'arco della maggior parte del 1847 fino alla nascita della prima figlia Carolina poi morta neonata e fino a quando Carlo per motivi economici si arruola nella regione straniera francese e va a combattere in Algeria però agli inizi del febbraio quando si cominciano a diffondere le notizie dei primi modi rivoluzionari della primavera dei popoli Carlo scrive al fratello chiedendogli un prestito per poter rientrare in Italia e partecipare alla rivoluzione raggiunta Milano il 14 aprile del 1848 incontra Cattaneo Cattaneo ne capisce subito le sue qualità di militare di carriera di militare che ha fatto scuola militare e gli chiede di rimanere a Milano per organizzare tutta la massa dei volontari che erano affluiti da tutta Italia Carlo dice no io sono venuto qui per combattere quindi si arruola e va a combattere nella zona nord-occidentale del lago di Garda dove fu ferito in un'azione di combattimento ferito dopo ovviamente l'armistizio di Salasco egli rimane arruolato nell'esercito piemontese fino al marzo successivo quando lascia l'esercito piemontese per recarsi a Roma lì c'è l'incontro con Mazzini in quel caso lo segue Enrichetta e lì Carlo avrà poi compiti di organizzazione perché diventerà capo dello Stato Maggiore come più volte è stato riferito qui all'assedio dei francesi e poi quindi alla presa di Roma Carlo rifiuta di consegnare le armi e la divisa infatti viene uno dei pochi perché a parte quelli che sono morti tipo Goffredo Mamelli Luciano Manara altri vanno via in tempo Carlo no rimane e si rifiuta di consegnare ai francesi la divisa e le armi tant'è vero che viene incarcerato in Castel Sant'Angelo e poi successivamente liberato e va a Esule prima in Svizzera e poi a Londra però questa volta l'esilio non è per motivi sentimentali perché inseguiti da un marito geloso e anche iroso no questa volta è un esilio veramente politico e soprattutto permetterà a Carlo di elaborare il suo pensiero politico sociale dopo la sconfitta della rivoluzione perché lui fa una dettagliata analisi della sconfitta della guerra combattuta in Italia nel 48 e 49 in un libro che poi pubblicherà nel 51 un libro che susciterà tantissime rivalità discussioni eccetera però lui nel nocciolo vuol dire questo la rivoluzione è fallita perché non è stato coinvolto il popolo al popolo non interessa avere un re austriaco o un re italiano non interessa avere un brigimetizio un brigimecaio al popolo interessa migliorare le proprie condizioni di vita sociale ed economica che sono ovviamente molto quindi le rivoluzioni che appartengono a elite aristocratiche borghesi non producono nessun beneficio il popolo deve essere coinvolto ma il rapporto con Napoli come resta il rapporto con questa città resta un rapporto ovviamente dialettico da una parte mentre prima del 48 49 nelle lettere al fratello lui non fa altro che esaltare l'esercito delle due Sicilie è entusiasta quando viene a sapere che il generale Pepe insieme ai suoi commilitoni tipo Enrico Cosens vanno a combattere a Venezia per la difesa della Repubblica Veneziana quindi diciamo paragona l'armata napolitana a quella francese per dire quanto lui ci teneva alla sua origine della scuola dell'Annunzia Pella e quindi ma poi ovviamente con i fatti del 49 e soprattutto dopo la la vicenda di Messina del bombardamento di Messina eccetera lui cambia opinione e dice no un esercito che non combatte il nemico fuori dai propri confini ma combatte i suoi dall'interno è un esercito che mi fa paura e che quindi non condividerò più e in questo comincerà la dialettica col fratello Filippo il quale invece fa tutta la sua carriera nella cavalleria dell'esercito borbonico combatterà la battaglia del Volturno rimarrà con il re a Gaeta seguirà il re in esilio a Roma quindi diciamo sono due situazioni proprio completamente contrapposte ideologicamente politicamente militarmente eccetera questa storia diciamo di legame con la città poi viene a perdersi completamente nel corso degli anni perché diventa sempre più difficile mantenere i contatti soprattutto dal 55 in poi negli ultimi due anni della sua vita per motivi ovviamente di censura perché col passare degli anni l'intelligence del regno delle due Sicilie diventa sempre più diciamo esteso sempre più coinvolgente e quindi anche nelle lettere lui ha necessità di non esporre il fratello e quindi diciamo piano piano il carteggio poi finisce perché ovviamente non è possibile più mantenere questa cosa dirò che anche il liceo Mazzini partecipa attivamente a questi programmi con un percorso di alternanza scuola-lavoro che riguarderà le classi del triennio principalmente le terze e le quarte attraverso anche un ciclo di lezioni che alle quali poi seguirà una parte applicata molto interessante perché il progetto è interdisciplinare noi abbiamo quindi una parte si parlava di iconografia una parte iconografica con il coinvolgimento della storia dell'arte una parte estetica e filosofica ed una parte squisitamente giuridica un progetto interessantissimo che partirà breve del quale ringrazio il professore Melillo e i colleghi tutti grazie a voi tutta la didattica ormai orientativa cioè quando si costruiscono livelli contenuti di apprendimento si costruiscono in modo tale attraverso metodologie qualità si costruiscono in modo tale da consentire al ragazzo di entrare dentro e di sperimentare se stesso dentro quei contenuti e quindi di conoscere se stesso noi non possiamo perdere alcuna occasione per cui quando i ragazzi hanno la possibilità di poi noi quando abbiamo la possibilità di poter farli rapportare anche con un'esperienza come questa significa comunque elaborare poi una visione sulle cose cioè raccogliere dei dati per elaborare anche una propria visione delle cose metterla dentro diciamo al proprio modo di poi di costruire il proprio progetto quindi poi c'è stato questo fuori programma le mie studentesse non sono delle modelle queste sono delle studentesse dell'indirizzo 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 turistico sono tornate una settimana fa da Malta dove sono stati un mese a fare uno stage di promozione turistica e di programmazione turistica quindi eh beh gli abbiamo regalato anche questa questa giornata va bene io vi ringrazio ancora speriamo di vederci alla prossima grazie a tutti grazie a tutti